Sì, posso dare una mano perché gioco in Italia e so come giocano gli italiani. Questo può essere un vantaggio. Ecco, vi faccio un esempio. Intanto vi dico che tutto parte da Pirlo. È lui il regista. Tutto inizia da lui. E quindi posso dire ai miei compagni le giocate che lui preferisce. Quindi possono pressarlo in modo da non lasciarlo pensare. La difesa italiana è molto forte e quindi posso dire ai miei attaccanti di non dare agli azzurri punti di riferimento. I tre difensori che ha l'Italia sono molto forti e quindi dobbiamo muoverci molto. È così che posso aiutare i miei compagni. Sì, posso dire ai miei compagni.